I normali controlli di prevenzione lungo il territorio Ipparino e della frazione di Scoglietti in particolare hanno permesso in queste ore alla polizia di arrestare in flagranza di reato un gelese di 47 anni, Carmelo Palmieri, appena uscito da una villetta con del cavo elettrico di circa 50 metri che il proprietario teneva custodito nel garage. Gli agenti sono intervenuti dopo avere notato da lontano un uomo che aveva scavalcato il muro di cinta dell'abitazione. Si sono quindi avvicinate e lo hanno bloccato. Lui ha affermato di essere in quel posto per raccogliere lumache anche se non c'era assolutamente traccia di contenitori. Nella sua auto invece gli agenti trovano diversi arnesi da scasso che spiegano quindi segni di effrazione alla finestra della villetta in questione. Viene chiamato allora il proprietario che entra a casa dove nessuno era finora entrato. Solo la finestra presenta segni di forzatura mentre il cavo elettrico è proprio quello del padrone di casa. Per palmieri pluri pregiudicato per reati contro il patrimonio scattano così le manette ai polsi. Nelle prossime ore sarà processato per direttissima.